La gente giovane compra la possibilità di diventare qualcuno. Le persone che ho incontrato ho sempre fatto far soldi. Il 95% delle persone che io incontro non ha scopi di vita. Uno degli scopi è quello di arrivare a cambiare la vita di almeno 50.000 imprenditori. Tutto quello che ho chiesto è successo nella vita. Tutto. Tutto. Ok. Imprenditore, alzati e fattura. Ma devo dire pure podcast. Ma sì, diciamolo. La genesi dell'opulenza. Questa era buona, U. Questo podcast è offerto da 20 Business Training. Fatturatori, fatturatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Alzati e Fattura Podcast. Noi ormai vi abbiamo abituato ad avere dei numeri uno paurosi. Però io non lo so se oggi siete pronti. Io non lo so. Perché oggi, signori, siamo con Mirko Gasparotto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, Mirko. Non ha bisogno di presentazioni, Mirko. Non ha bisogno di presentazioni. È l'uomo dal cappello, Mirko. No, sono inclusivo con le giovani generazioni. Ci mascheriamo. Piglio dentro il cappello. Io ti ringrazio dei giovani di generazioni. Come stai? Ci riferiva a me, comunque. Bene, grazie. Fai questo, io ringrazio. Come stai? Bene, grazie. Bene, bene, bene. Senti, ascolta, io ho proprio la necessità di approfittare. Posso approfittarmi di te? Questi 40 minuti. È un abuso con permesso. 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 Un abuso consensato. Perché tu secondo me di valore oggi ce ne puoi portare veramente, veramente tanto. Noi abbiamo, le persone che seguono il podcast sono imprenditori piccoli, grandi, emergenti, eccetera. Di tutto, di più. Persone che hanno fatto il percorso come il tuo, secondo me, danno veramente una grande ispirazione, motivazione e valore. Quindi vorrei partire con come è entrato Mirko Gasparotto nel mondo del business, nel mondo dell'imprenditoria. Da dove parte? Parto dalla porta di servizio, nel senso che il primo di novembre dell'83 sono entrato come magazziniere nella mia attuale attività di consono presidente. Ci ho messo sette anni da fattorino a presidente del gruppo. È bello che lo dici così. No, nel senso che era una piccola azienda del nord-est, fatturava allora 500 mila euro. Io sono entrato come fattorino, poi sono diventato venditore, poi responsabile commerciale, poi sul più bello, quando cominciavo a guadagnare un bel po' di soldi, dopo cinque anni che ero dentro, in 88, è morto il fondatore. E sembra una frase fatta, dietro a ogni problema c'è un'opportunità, in effetti è l'ennesima conferma di questo, perché a questo punto il fondatore non aveva figli, è morto giovanissimo, aveva 56 anni. Lì ho intravisto, sai, nella vita passano dei treni, tu devi essere capace di individuare i treni quando passano e salirci su, anche magari se non hanno previsto la fermata nella stazione dove c'eri tu. Lì ho capito bene tutto, poi l'azienda avrebbe dovuto essere stata venduta alla multinazionale francese, c'era già una lettera di intenti, io ho bloccato la signora che vedova allora, che praticamente gli ho detto, ci dia la possibilità, ma la realtà è che avevo 25 anni, quindi non avevo assolutamente i soldi e nulla. Però anche qua la determinazione, la capabilità, lo dico sempre ai giovani, dovete credere che tutto è possibile e mi sono messo a studiare, mi sono messo a studiare i numeri dell'azienda, ero un venditore meraviglioso, ero uno che era molto, sono uno che è molto empatico, molto magnetico, ma non basta nella vita, non basta vendere, non basta saper fare una cosa, bisogna diventare imprenditori. Ho fatto 90 corsi in tre anni, ho bloccato la vendita dell'azienda ai francesi ed è successa un'altra cosa stranissima, perché questa signora mi dà la tesi di laurea della persona, del nipote suo che non ha voluto venire a gestire l'azienda dello zio, che oggi è amministratore delegato Mondadori, numero uno Mondadori, si chiama Antonio Porro e questo pochi lo sanno, ma lui mi dice a sua zia, dagli questo libro a Mirko, era la sua tesi di laurea e sulla tesi di laurea c'era scritto Leverage Buyout, interessante, come comprare l'azienda per cui lavori con gli utili dell'azienda? Porca miseria, ho trovato la mia soluzione, però non era ancora fatta e vado dalla signora e gli dico, adesso mi ha dato sta roba qua e qui questo è il strumento, la signora dice, sì ma c'è un terzo attore che manca al tavolo che sono le banche, ho fatto un pellegrinaggio bancario, pellegrinaggio vero e proprio 10-15 banche, tutti avrebbero mollato perché volevano tutti le garanzie, insomma ok oggi quando uno va, in realtà la ventesima banca, c'era una banca che aveva appena aperto a Tiene e questa banca qua, ho visto che c'era il capo area, altro colpo di fortuna, molto importante, capo area che era in visita, loro dovevano fare impieghi a tutti i costi e lì ho buttato il seme, ho detto guarda che non abbiamo il business plan pronto perché mi sembrava irrispettoso portarvelo al primo incontro, in realtà non ce l'ho mai fatto. Non l'avevo ancora fatto. Non l'avevo ancora fatto. Sarebbe stato rispettoso. Sarebbe stato rispettoso. Perché parlo prima. È per quello che adesso dico che i numeri sono importanti e abbiamo fatto l'operazione e quindi sono entrato in questa maniera rocambolesca e però da subito quei 90 corsi sui numeri mi hanno cambiato letteralmente la vita. Io dico a tutti gli imprenditori di tutte le dimensioni, concentratevi sui numeri che sui numeri passa tutto. Do per scontato che voi sappiate fare il vostro lavoro, che voi sappiate fare la vostra attività primaria, ma fare gli imprenditori è una cosa diversa. Fare gli imprenditori significa governare la tua impresa e a 25 anni lì ho iniziato a governare. Senti, qui abbiamo tantissimo adesso di cui parlare perché tu sei andato velocissimo, ci hai fatto questa panoramica e ti farò tante domande su questi passaggi. Potrebbe già essere finito qua. Sì, infatti posso alzare e andare via per rivederci. Però voglio fare un passo indietro per adesso e poi dopo torniamo magari avanti. Per fare l'imprenditore, ovviamente il venditore, il commerciale ad alto livello come magari l'hai fatto tu serve comunque una certa ambizione, una certa voglia eccetera. Perché iniziavo da magazziniere? Perché la persona che mi ha coinvolto, il fondatore, ha saputo raccontarmi uno storytelling pazzesco. Quando io racconto un antefatto molto interessante. Io tornavo dal militare, dopo il militare ho detto devo capitalizzare, ho chiuso con i miei amici la frequentazione B2 che mi aveva portato nella prima fase della mia vita, i primi vent'anni, goliardico. Cioè... Divertimento. Mi sono divertito, ho fatto di tutto e di più, no? E ho chiuso perché... Che era a fine anni 70, 80, erano belli anni insomma. E praticamente ho chiuso questa roba e poi a un certo punto io cominciò a fare l'agente di commercio per autoricambio. Arriva una telefonata a casa del prete di Zanè che mi dice c'è uno milanese che trova che cerca un magazziniere, un fattorino, un portabombole. Io dico, no cazzo mamma, cioè io voglio fare la gente, no? Ma vai almeno a fare il colloquio, no? Sono andato il pomeriggio, sono salito in macchina con lui, lui mi ha raccontato lo storytelling, non aveva figli, voleva qualcuno che portasse avanti, quindi l'importanza dello storytelling lo dico sempre, dovete acchiappare le persone con la storia. La gente giovane compra la possibilità di diventare qualcuno e lì mi ha rapito perché mi ha detto vabbè parti da qua e dopo è limitato insomma. Beh è stato lungimirante però devo dire, storytelling ma ci ha preso il pieno. Lui era un venditore straordinario, strepitoso, Antonio era un ordine. Hai avuto anche una capacità di crederci poi in questa storia e nella tua persona. Sì, era un ambiente più friendly ma lui proprio con questo racconto di quello che potevo fare all'interno dell'azienda mi ha rapito, il mattino dopo ero lì, avevo detto gli altri, un mandatore ha comandato, ci ho ripensato non è un lavoro che fa per me eccetera e l'altra azienda dopo un po' di mesi è fallita, per conto suo. Nel senso che guarda il destino slide, era un'azienda di autoricambi ed è fallita e quindi io lì ho proprio svoltato completamente. Mirko, mi volevo collegare a una cosa che hai detto. Hai raggiunto i tuoi vent'anni e poi hai deciso di chiudere le amicizie passate insomma. Come mai? Da cosa è partito questo impulso di dire ok chiudo tutto con la mia vecchia vita tra virgolette e punto a una nuova ambizione? Quando tu vuoi capitalizzare nella vita e parti da zero o parti da sotto zero, devi fare un piano. Il militare mi ha servito per capire che dovevo costruire tutto quello che non ho trovato costruito. Le persone, i figli che hanno i padri che gli lasciano attività sono svantaggiati, molto svantaggiati. Chi parte da sotto zero come me è avvantaggiato ma deve costruirsi. Quindi sapevo che non potevo continuare quella vita dal lunedì al venerdì incazzato perché comunque martedì cominciava, mercoledì benissimo, giovedì eccetera e poi lunedì tornare col muso lungo. No, cioè non è una vita. Quindi ho sacrificato quella parte gogliardica e mi sono concentrato sul lavoro. Ho fatto un progetto di vita, allora ho cominciato a programmare la mia vita, ho cominciato a dirigere e focalizzare i miei sforzi e ho sempre saputo dove volevo arrivare, ho sempre visto dove volevo arrivare il percorso. E in quel momento ho tagliato i punti, non li ho più visti, sono 40 anni. Definitivo? No, non li ho più visti. Non ti mancava un po' quel divertimento, quella verve eccetera? Soprattutto tra i 20-30 perché più vai avanti con l'età è più ok, però tra i 20-30… No, perché subito, allora prima fase, i primi cinque anni da fattorino responsabile commerciale costruivo la squadra. Io ho costruito la squadra e quindi ero concentrato, proprio focalizzato, libri di vendita da Mario Silvano, Frank Betts, cioè tutti, leggevo, divoravo i libri eccetera… Per quello che c'era ai tempi poi… Era veramente… Quindi ero focalizzato… Non c'erano i corsi di 20 all'epoca… No… No… Deve essere Frank Betts… C'era il venditore meraviglioso, l'ho letto sette volte… Mastev… Eh… Io dico a tutti… Quindi i primi cinque anni così… E poi quando ho fatto l'operazione finanziaria tutto… Cioè ancora più focalizzato e ho fatto debito… Quindi non… Questa tua determinazione, ambizione, insomma fame, perché poi da come la racconti… Cioè non è nata stradavacenno, ma già comunque avevi le tue idee, avevi la tua visione… Da quando è che nasce? È sempre stato così? C'è stato qualcosa? No… Da sempre… Io giocavo a calcio, facevo il capitano e volevo vincere, non giocavo mai per sport… Non ho mai giocato per sport… Conquistatore… Cioè qualsiasi cosa io voglio vincere, voglio arrivare per primo… Quindi una DNA molto competitivo da questo punto di vista qua ce l'ho sempre avuto… Sotto ogni aspetto della vita o principalmente nel lavoro? Tutti gli aspetti… Tutti gli aspetti… Tutti gli aspetti… Perché non nascono con questo DNA? Perché non tutti nascono col DNA del leader, del voler vincere a tutti i costi… Devono collocarsi… Bella domanda questa… Devono collocarsi in un mosaico, diciamo, professionale dove possono prendere il treno più veloce… Cioè ci sono ottimi numeri due, ci sono ottimi personaggi che fanno bene una cosa… Non volere fare il leader se non sei naturalmente un leader… È già una cosa molto importante… Io conosco moltissime persone che sono nel cerchio magico… Che non sarebbero mai numeri uno, voglio dire, ma sono trascinati dal leader… Quando tu sali a bordo in una situazione come la mia… Cioè io le persone che ho incontrato ho sempre fatto fare soldi… Sempre… Sempre… Hanno sempre guadagnato… Sempre… Ma un certo numero… Quindi da… 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 Da vent'anni… Da trent'anni insomma… Prendiamo i primi dieci… Voglio dire… E a vent'anni cosa sognavi? Cioè come immaginavi il tuo futuro? Bah… Avevo delle convinzioni molto limitanti… Insomma… Cioè i venticinque anni lì… Prima che morisse Antonio… Io avevo già… Tema… E-Turbo… Sedini… Alcantara… Sabato… Domenica… Jaguar… Usata… Con… Decapotabile eccetera… Cioè mi piaceva molto… Mi vestivo in lamè come i cugini di campagna… C'era… Io pagherei oro… Per vedere Mirko Gasparotto in queste vesti… A vent'anni pagherei… Andavo… Ci vedete qualche foto… Pensa… Non le ho fatte… Perché andavamo alla Chiocciola… Che era una discoteca vicino alla Diesel… A Molvena di Renzo Rosso praticamente… E lì c'era… Però avevo 16-17 anni… Quindi le favamo sempre all'entrata… E lì avevo già una stazza fisica… Molto strutturata… Diciamo… Quindi… No… Sono stati anni straordinari… Io i primi vent'anni mi sono… Da 15 a 20… Ho fatto tutto quello che può fare una persona… Tranne drogarmi… Non ho mai fumato neanche una canna… Quindi non so… Ho bevuto molto… Quindi questo… Inevitabile dai… Senti ma… Quando è che c'è stato quel click… Che ti ha portato da persona ambiziosa… Che vuole vincere… Tu parlavi del capitano di calcio… Eccetera… Però quando hai capito che volevi vincere… Anche nel business… Anche nel lavoro… Cioè quando è che c'è stato quel click… Ah quando… Io diventerò… Quando ho cominciato a studiare le biografie… Dei grandi… Dei grandi manager… Dei grandi impreditori… Mi ricordo sempre… Uno dei primi… Ho letto Iacocca… Nella Chrysler… Ho letto storie incredibili… E da lì comunque ti ispira… E dici cazzo… Voglio fare qualcosa di importante… Voglio… Voglio realizzare qualcosa di importante… Poi man mano… La tua vita ti dà… Man mano che tu diventi focus… Su quello che vuoi… La vita te lo dà… È una cosa… È un meccanismo cibernetico… Che secondo me funziona moltissimo… Più focalizzato sei… Più… Arrivano le cose che tu vuoi raggiungere… E quando manchi… Quando sei random… Quando non hai le idee… Quando non lavori su te stesso… Sono uno che… Da 41 anni… Da quando sono entrato nel business… Ha sempre lavorato… Lavora oggi… Tutto oggi… Moltissimo… Su se stesso… Cioè ogni giorno… Sposto il meccanismo… La resilienza… La capacità… Quando arriva un problema… E io ne ho sempre… Perché sono il presidente di un gruppo… Che comunque… Ha tutti i giorni… Delle problematiche da risolvere… Ecco… In quel momento lì… Tu aumenti ancora la tua resilienza… Insomma… Tante volte… Mi faccio anche un po' di paura… Nel senso che… Sono troppo… Focalizzato… Troppo… Mirato all'efficienza… Eccetera… Quindi… È un'ossessione… Orientata al risultato… Ovviamente… Orientata… Orientata al risultato… Sì… Totalmente orientata al risultato… Grandissimo… Contributo… Il fatto di… Aumentare sempre le cerchie di conoscenze… Cerchie di conoscenze… Sono stato… Ho sempre… Ho frequentato persone più grandi di me di età… Più fatturato di me… Più possibilità economiche di me… Più robe realizzate nella vita di me… Cioè… Se tu rimani al tuo paesello… No… Io dico sempre che… Una… Cioè… La vita è questione di capo… Se tu sei il tuo paesello… Sei l'imprenditore di riferimento… Gli altri sono sotto… Godi di una bellissima situazione… Ma non cresci mai… Certo… Hai la stimola di tutti… Perché ti dicono… Sei bravo… Sei qua… Sei là… Il tuo ego è pagato… O non cresci mai… Se invece tu sei l'ultimo… E gli altri sono sempre in cima… Tu dici… Ma come ha fatto quello… Ma quello come ha fatto a fare un miliardo… Ma l'altro come ha fatto a guadagnare 50 milioni di euro all'anno… E allora cominci a capire i driver degli altri… Come sono… Come funzionano… Chi erano i personaggi o i tuoi mentori all'epoca? C'era qualcuno a cui tu ti ispiravi particolarmente in quegli anni? C'era il tuo idolo che tu dicevi… Oh io voglio diventare come lui eccetera… Beh… Insomma… Il… Ce ne sono tanti… Su questo… Su questa… Diciamo… Bill Gates era uno… Era uno di quelli… È sempre stato un riferimento secondo me… Prima che lo beccassero con il discorso di Epstein… Eccetera… Che mi ha fatto un po'… Eccetera… E lui… Lui era uno… Molto particolare… E poi… Un mio mentore… Un mio socio… Che è mancato il 7 di gennaio di quest'anno… E una persona che ha realizzato un'azienda che fa un miliardo… E 200 milioni di EBITDA… Quindi… Cioè… Però ho cercato sempre dei riferimenti di persone che posso contattare… Con i quali posso parlare… Certo… Con i quali posso… L'idolo lontano… L'idolo lontano… L'idolo lontano… Anche perché l'idolo lontano non sai mai veramente com'è la situazione… O com'è realizzata… Invece quello che puoi parlarci… Lo fai poi io… Poi l'idolo te lo costruisci un po' anche attraverso la fantasia… No… Ci tendiamo a… Ci tendiamo a… Si… Tante volte magari poi ci casca il mito… Quando vediamo… Che è umano come tutti… Invece… Tutti quelli che conosco… Poi io sono molto bravo nella prova del vino… E nella prova del vino viene fuori tutta la realtà insomma… Cioè… Tengo molto il vino e tengo molto l'alcol… E quindi quando gli altri cominciano a… Vi fa ubriacare… Io tutti i colloqui di manutenzione della mia vita li ho fatti con una pizzeria che era lì vicino… Andavamo… Andavamo… Eravamo… Era d'accordo con il gestore… Gen Tonic… Ma il mio interlocutore è doppio… E a me è molto basso… e quando era andato il primo subito il secondo e lì i freni ti dicevano tutto uno ti dice tutto ti dice anche se ha vizi non si insegna da bocca mi sembra che dobbiamo iniziare ad applicarla questa tecnica grande ispirazione scusate che la senti Mirko? si ha detto si perché sentiamo questa musica perché è arrivato il momento giuro che io non l'ho preparato ma si sente stavolta molto forte arrivato il momento amici a casa dell'arca dei minuti prima di continuare iscriviti al canale di Alzati e Fattura Podcast per supportarci e attiva la campanellina per non perderti nessuna puntata ti porteremo la storia di ospiti incredibili chi ti sta parlando è Alessandro Cutri di 20 Business Training l'innovativa accademia di business per imprenditori, venditori e professionisti che ha già formato oltre 2000 studenti a raggiungere i propri obiettivi e ha collaborato con brand internazionale come Red Bull, Fit Active e tanti altri clicca subito il primo link in descrizione per maggiori informazioni e guarda subito la masterclass gratuita che abbiamo preparato per te dove scoprirai le 4 capacità fondamentali per diventare un venditore di successo e cominciare a fatturare oltre ogni limite anche partendo da zero spieghiamo rapidamente che cos'è quest'arca dei miti abbiamo sviluppato un hardware legato a un software che ci permette di definire al 99,99% insomma oppure smentire quello che è un mito un luogo comune che si è creato attorno all'imprenditore ovvero l'imprenditore ha avuto culo è stato fortunato l'ha baciato qualcuno dall'alto insomma la vita gli ha dato quello che gli doveva dare senza che se l'è meritato tu sembra sembra Mirko sembra che nella vita abbia lavorato e ti sia costruito però noi questa cosa dobbiamo provarla la mia sensazione è molto positiva però la mia sensazione conta fino a un certo punto quindi noi abbiamo questo strumento non è opinabile questo strumento che ci dirà ci dirà se Mirko se Mirko effettivamente ha lavorato oppure se invece magari ha avuto fortuna di entrare in quell'azienda e dobbiamo testarlo con questo strumento di alta precisione tre giri puoi scegliere o un numero oppure ogni volta cambi numero scegli tu vai sette sette dici a sette dici a sette lo cambi io sempre lo stesso non lo cambio Mirko tu con i numeri vai forte non mi deludere non mi deludere vai otto vediamo 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 oh 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 tredici ti stai avvicinando ultimo ventisette ventisette vediamo vediamo ventisette e e e e e e che cazzo è questa ragazzi è bloccata non l'ho mai vista questa cos'è è tra il quattro questo è fortunissima questa è fortunissima questo è un botto di culo così signori uno sfiga immenso dipende uno o l'altro allora mi avete stato ma che roba maffa ragazzi cazzo l'avete presa questa roba che idea da quattro euro su amazon l'avete presa e vabbè Mirko Gasparotto quindi ha lavorato ha lavorato ci sono state tu ne hai parlato un po' prima di fortuna si l'hai nominata l'hai nominata la fortuna no l'ho nominata la fortuna ma se non è accompagnata poi da una ottimizzazione di quello che ti è capitato io ho lavorato per vent'anni sette su sette da vent'anni da quindici anni da diciamo dall'ottantotto al duemila e tre ho lavorato sette su sette tutti i giorni tranne la domenica pomeriggio domenica pomeriggio smettevo perché andavo a messa e dalle sedici alle diciannove smettevo poi mangiavo poi dopo cena non la domenica smettevi la domenica dalle sedici alle diciannove smettevi dalle sedici alle diciannove io te lo chiedo lo stesso però immagino già la risposta è per i soldi tutto questo? no c'è nel senso che tu quando hai degli obiettivi ma soprattutto degli scopi c'è una benzina che è difficilmente comprensibile per chi non ha non ha i scopi chiari della propria vita il novantanove per novantanove 95% delle persone che io incontro non ha scopi di vita quando tu non hai scopi di vita tu non puoi dirigere lo sforzo non puoi capire l'adrenalina non puoi capire perché fai determinate cose tutto questo oltre quando tu sei libero finanziariamente è la benzina che serve per vivere al centro perché quando tu sei libero finanziariamente saresti arrivato allora cominci a farti prendere dei vizi cominci a farti prendere dalla noia da altre cose fai cazzate della vita quando tu invece hai gli scopi chiari sei libero finanziariamente ti prendi tutti gli spizi che vuoi tutte le cose che vuoi ma dopo sei sempre sei sempre a mille proprio perché ha questi scopi di vita il tuo qual è? qual è il tuo scopo? ne ho sette ne ho sette scopi di vita io uno degli scopi è quello di arrivare a cambiare la vita di almeno almeno 50.000 imprenditori PMI diventare il riferimento delle PMI italiane perché con 50.000 imprenditori che hanno 30 dipendenti più o meno a testa io faccio un milione e mezzo due milioni di lavoratori sul 23 milioni di lavoratori con i nuclei familiari invece arrivo a 7 8 9 milioni di persone dove io posso incidere cioè aiutando gli imprenditori a guadagnare di più a ottimizzare il loro conto economico a fare il loro piano industriale e così diventerò il capo delle piccole e medie imprese italiane non andrò mai in politica nel modo più assoluto lo confermo al 100 per 1000 ma sicuramente avrò una valenza importante per tutte quelle imprese piccole e medie imprese italiane che oggi non sono degnamente rappresentate ora mi ricollego al tema subito prima ci racconti invece una situazione dove veramente hai avuto una sfiga poi sappiamo che possiamo comunque vederle sempre come opportunità e quindi c'è dietro una soluzione ma una situazione della tua storia in cui dici cazzo quella volta lì veramente ho avuto una sfiga enorme e l'ho dovuta poi affrontare ce l'ho fatto ovviamente perché mi ritrovo qua però non è stata positiva beh io ho fatto 147 operazioni societarie di piccolo cabotaggio nell'arco dei dieci anni quando io ero ancora il capo operativo dell'azienda in queste 147 operazioni ho incontrato di tutto e di più molte sfighe non poche ho incontrato un'azienda abbiamo comprato il 30% poi questa azienda è fallita ovviamente abbiamo fatto tutto il possibile e le cose non sono andate bene e allora anche qua insegno agli imprenditori che quando c'è un fallimento e tu hai fatto tutto quello che potevi fare non è che puoi massaccarli devi star bene con te stesso poi un'altra volta avevo comprato un'attività storica del settore di distribuzione professionale do it yourself la parte do it yourself era un mercato nuovo e ho dovuto venderle subito perché era veramente quindi di sfortune ne ho avute parecchie insomma io penso che non sia importante le sfortune che ti arrivano ma come tu sei strutturato per affrontarle perché se tu sei strutturato bene per affrontarle le affronti bene io ho un mito nel mondo del pugilato che è Cassius Clay Cassius Clay era molto esile molto diciamo un pugile non strutturato come Tyson ma lui andava giù e tornava su l'altro diceva l'ho abbattuto gli batteva la spalla e lo stendeva cioè la vita è fatta di cadute è fatta di cose che ti creano difficoltà l'importante è la tua resilienza hai mai pensato di non poter superare una situazione? no no non ho mai pensato questo per un semplice motivo perché oltre alla razionalità ho una fede che coltivo da sempre e la fede mi ha sempre fatto credere che le soluzioni ci sono tutte c'è un problema che non è stato mai risolto ed è la morte ma Lazzaro è stato l'unico che può testimoniare che oltre quello non c'è tutto risolvibile se tu guardi se io guardo le sfortune che ho avuto vent'anni fa rido adesso però allora mi hanno creato poi non è neanche detto che la morte sia un problema in base a come viene interpretata io penso che in paradiso ci si trovi molto bene insomma entriamo nel tema spirituale bello mi piace voglio un attimino restarci che appunto hai detto che hai un ottimo rapporto con la fede di che tipo? beh prego un'ora al giorno da sempre tutti i giorni faccio parte della coroncina della Divina Misericordia che è di suor con l'osca polacca mi arrivano delle richieste di preghiera di persone che hanno malattie tumori o altre cose e io dedico un'ora nella mia vita anziché andare in palestra la dedico alla preghiera ma anche in palestra? no ah ok non faccio nessuno sport zero sport ma è una cosa che non hai mai avuto modo di portare avanti? no no non sono stato determinato ma la diciamo la velocità della mia vita tra Vicenza Milano e tutto quanto il resto insomma non ho mai fai già running quindi sì lavoro molto sul mio corpo ho un preparatore italo-israeliano che prepara i soldati nei kibbutz che già da dieci anni mi dà insomma forma fisica direi abbastanza non facendo non facendo non andando in palestra andando in palestra devo dire che a 61 anni do la stecca a parecchi ventenni sì sì sono d'accordo sono d'accordo li stendo wow wow forte forte bello anche il tema della spiritualità perché vedo che è una cosa che poi si ripete spesso nelle persone insomma è un qualcosa che forse ad oggi i giovani tendono veramente a sottovalutare forse ormai a non neanche più pensare va bene non credere ma almeno punti dei dubbi io dico sempre trova il tuo dio io sono cristiano ovvio trova il tuo dio non può esserci una parte agnostica uno non può essere agnostico quindi cerca il tuo dio perché io quando nella mia routine matutina faccio queste preghiere io trovo me stesso trovo una serenità una pace pazzesca dopo possono arrivare quante buste verdi vuoi possono esserci i problemi risolvo sempre cosa è che cosa è che ti dà la preghiera o cosa speri di dare attraverso la preghiera mi dà la tranquillità la serenità interna la pace interna mi dà la pace per lo spirito per affrontare le difficoltà che la vita inevitabilmente quando uno ha tanti teatri di guerra aperti come me io ho 26 teatri di guerra costantemente aperti diciamo è evidente che non tutti possono essere positivi ecco la fede mi dà la tranquillità la serenità ce la puoi fare ce la fai arriverà la vedi più come una sorta di corazza tra virgolette oppure di momento per uscire da questi teatri di guerra no no è una prova è una prova io tutto quello che ho chiesto è successo nella vita tutto tutto ecco senti a proposito di questo prima avevo parlato di sfortuna però ci sono state e sicuramente sì ma mi piacerebbe che tu mi raccontassi magari un episodio particolare ci sono state invece delle cazzate che hai fatto cioè degli errori qual è stato l'errore che hai pagato di più o che magari ti ha segnato di più ho comprato un'azienda di produzione io ho sempre fatto il distributore industriale e il distributore industriale lo so fare molto bene perché è il mio lavoro ho comprato un'azienda di produzione e questa azienda di produzione mi ha mi ha provocato problematiche per dieci anni evidentemente uno che sa far bene una cosa non può saltare a destra manca e fare altre cose insomma questa è una di quelle insomma voglio dire ho sbagliato persone tante volte ho fatto una cazzata all'inizio degli anni 2000 non ho capito che avevo un paio di puro sangue nella squadra e in quel momento io ero molto affaticato psichicamente non ho dato loro spazio e loro hanno fatto un'azienda per conto loro che è arrivata a fatturare un sacco di milioni l'hanno venduta sono diventati milionari bravi chapeau e quindi lì ho fatto una cazzata nel senso che sono ho fatto una cosa che non che non andava fatta in quella maniera ma ne ho fatte tante cioè sto raccogliendo il libro degli errori poi lo ho fatto una società bello ho fatto una società al 50 e 50 quando si fa una società al 50 e 50 è l'errore sbagliatissimo poi mi sono diviso ho litigato per 23 mesi e mezzo insomma tutti questi errori li condivido con gli imprenditori che mi seguono gli dico tutte le cose noi abbiamo ognuno di noi ha un circuito esperienziale l'ideale è salire su più circuiti esperienziali degli altri possibilmente su più su più su più perché perché se io ho un altro che ha già fatto quell'errore me lo racconta e se me lo racconta è diverso da un professionista che mi suggerisce una strategia certo l'errore me lo racconta e mi dice io mi sono diviso da mia moglie che aveva il 50% della società e ho deciso questo 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 quindi ho creato tutti i miei percorsi formativi proprio per far sì che metto a disposizione oggi ho più di 6.000 imprenditori che mi seguono nei miei percorsi metto a disposizione loro più circuiti esperienziali possibili che vengono molto prima dei consulenti o molto prima dei professionisti sì perché poi molto spesso perché magari io credo che noi nei nostri corsi nelle nostre formazioni eccetera ci accorgiamo sempre di questo cioè io l'informazione che ti do lo strumento la strategia eccetera ok funziona e hai come la percezione che quella strategia ti porti a un risultato perché migliori in quella gestione in quella skills però in realtà non ci si rende conto forse perché non si ha proprio un feedback immediato di quanto si guadagni dal non aver fatto degli errori perché magari qualcuno me li ha evitati io stesso ne parlavo all'interno di uno dei nostri percorsi di formazione con imprenditori eccetera ho raccontato proprio questa circostanza che ho avuto in un errore nel stipulare un contratto di lavoro con un collaboratore non mi ero tutelato abbastanza bene avevo stato un pochino negligente nelle condizioni contrattuali quando ho spiegato sta roba io avevo 30 persone davanti e cazzarola io so che quelle 30 persone quell'errore non lo faranno non si accorgeranno mai di quanto guadagneranno da quella roba là perché non perderanno soldi questa è una roba secondo me fondamentale è sacro sento io ho un posizionamento di mercato unico in Italia perché sono l'unico imprenditore di determinate dimensioni che condivide con gli altri imprenditori quindi mi credono da questo punto di vista quello che hai detto tu è spaziale tante volte dico ma costa soldi seguirti costa soldi qua va bene ho detto guarda una carpenteria mi sono messo lì ho detto guarda tu da quanti anni lavori da 10 anni ok più o meno 7 800 mila un milione un milione due eccetera e mi dà 5% benissimo da quanto lavori con noi lavoro con voi da 12 mesi quanto abbiamo portato l'Ebidda l'abbiamo portato a 10% al 5% tu prima di incontrarmi avevi già pagato 500 mila euro di mancato Ebidda cioè tu prima di incontrare me avevi già pagato 500 mila euro perché se in 12 mesi ti abbiamo portato da 5 a 10 vuol dire che era fattibile no certo quindi hai detto una verità sacrosanta cioè non li vedono sì sì nel complesso poi si vedono tutti i pixel che compongono un mosaico li vedi dopo li vedi quando li recuperi dopo dici cazzo quanto ho perso adesso e ti metti a fare i conti non si vedono ma una cosa invece si sente che è la musica che è tornata perché sempre per gli amici a casa e adesso è arrivato uno dei secondi momenti più aspettati della nostra puntata che è carta o bancomat cos'è carta o bancomat Mirko è il nostro questo o quello andrò a farti una serie di domande dove ci sono c'è una risposta da scegliere sostanzialmente puoi scegliere una o l'altra va bene sì allora Mirko preferiresti nascere Alessandro Magno o Albert Einstein Alessandro Magno come mai perché conquistato conquistato bella bella scontata questa scegliere scegliere di vivere una vita senza mai dormire senza alcun effetto negativo sulla tua salute o avere la capacità di apprendere qualsiasi competenza o argomento all'istante ma necessitare del doppio del sonno umano medio circa 16 ore al giorno di notte senza mai dormire senza mai dormire ok e sono tutte domande scontate lo preparate per te non sarebbe giusto allora vuoi essere ricordato per il successo finanziario o per aver migliorato la vita delle persone anche senza ricchezza la seconda evidentemente ricominciare da capo e non avere limiti oppure fermarti dove sei ora e vivere così per sempre no ricominciare da capo ricominciare da capo a questa età a questa ah madonna ah madonna cioè Warren Buffett ha cominciato a fare tanti soldi a 64 anni fighissimo fighissimo preferiresti avere un figlio che si droga o una figlia che fa Holyfans questa è brutta tutte scontate diceva questa è è un figlio che si droga ma lo dico al 100% eh questa è tu al 100% no no io penso di sì penso anch'io un figlio che si droga sì perché due botte lo sistemiamo esatto quella la sistemo la sistemo perché è diverso però no sai perché avrei detto Holyfans io sai perché avrei detto Holyfans perché però non ha non ha ripercussioni come dire fisica poi dipende cosa significa si droga è chiaro è chiaro è chiaro parliamo di eroina magari quello no ecco però certo una figlia senti a proposito di questo a proposito di questo ti vorrei fare una domanda un po' diversa mi parlavo tanto della tua dedizione al lavoro eccetera però questa estrema dedizione posso definirla quasi estrema dedizione al lavoro ho due domande la prima è come hai conciliato la vita personale cioè all'interno di quei sette scopi ci sono dei scopi anche personali come hai conciliato le relazioni i rapporti con le donne cioè come come qual è stata la chiave se ne hai utilizzata una per conciliare la vita privata con tutta questa dedizione al lavoro al business sì sì beh nella prima fase della vita assolutamente disponibilità a rinunciare alla mia presenza da parte del cerchio degli affetti perché questo è fondamentale nella prima parte se non hai flessibilità mentale di chi ti sta attorno come cerchio degli affetti vai in crash subito e devi mettere in chiaro che i primi 5 anni i primi 10 anni devi mettere il fiero in cascina e quindi assolutamente poi tutto deve essere ripartito da un tenore di vita diverso io dico sempre dovete procurarvi la capacità di spesa per il vostro cerchio degli affetti se diciamo che le liti a casa diminuiscono nel momento in cui aumenta disponibilità e libertà finanziaria i primi io ho assistito facciamo ho un fondo per aiutare gli imprenditori in difficoltà che è uno degli scopi della mia vita noi diamo a quelli che sono falliti gli diamo tiriamo su dalla strada gli diamo comunque un appartamento gli diamo comunque i generi di prima necessità e tutto quanto il resto eccetera i primi a abbandonare le prime persone a abbandonare gli imprenditori falliti è la famiglia è incredibile e sì è così è così perché purtroppo è così e quindi c'è questa questa volontà diciamo da parte delle persone di insomma di riscattarsi ma vengono abbandonate come mai vengono abbandonate secondo te perché la rinuncia alla difficoltà fa girare tutti dall'altra parte qua in Italia quando uno è fallito diventa un lebroso dall'altra parte vanno in cerca perché le cicatrici in Italia diventa uno così insomma assolutamente questo è fondamentale scappiamo dal fallimento quindi fa parte un po' del nostro DNA un errore di cultura aziendale incredibile io vado in cerca delle persone che hanno avuto difficoltà perché non rifanno più questi errori che dicevano prima sono anche temperati a supportarne altro eh madonna santa questo è un po' il discorso assolutamente è importante questa roba qua ma tu proprio personalmente come l'hai gestita questa? cioè come che tipo di tipologia di rapporti hai avuto di che relazioni ti sei circondato fuori dal lavoro? cioè Mirko quando finisce comunque il suo lavoro o il weekend? adesso non c'è confine adesso non c'è confine perché tutte le persone che io frequento l'amico più l'amico mio più vicino qua da Passivo Tempo fattura 800 milioni ed è una persona che ha un gruppo nel food e insomma anche perché poi ti targettizzi evidentemente se andiamo a fare una vacanza in barca quest'estate e facciamo una settimana con una barca da 30 metri non è che puoi andare insieme con un altro che non ha le disponibilità o altre cose quindi però anche qua io dico se investite in tenore di vita vi torna indietro sempre conoscete persone interessanti che ti circondi certo io continuo a dire che sui posti giusti ci sono le persone giuste c'è poco da fare quindi investire in tenore di vita non vuol dire spendere soldi a random ma potersi posizionare in determinati posti per fare conoscenze di un certo livello per capirci non vuol dire la Lambo non vuol dire l'aereo personale non vuol dire queste cose qua ma vuol dire luoghi club situazioni io vado sempre alle FEI a Pinzolo è una spa bellissima trovo sempre persone l'ultima volta 15 giorni fa eravamo sulla cigar room e stavo parlando con il mio socio amministratore delegato e insomma era l'una e mezza di notte quindi si è molto più prova del vino c'è uno che mi guarda c'è uno che mi guarda e mi dice dico ci conosciamo sì io conosco te tu sei quello di Tik Tok mi salta sempre fuori sei Mirko Casparotto e condivido e condivido 30 anni allora do la mano il piacere questo fattura va a 400 milioni fattura a 400 milioni a 1100 dipendenti cioè non l'avrei trovato su al bar però utilizza Tik Tok quindi vedi che possiamo targetizzare persone serie anche su Tik Tok questo utilizza Tik Tok quindi le aziende bisogna ovviamente che diffondiamo questo tema qua le aziende devono dare tenore di vita devono dare soldi devono pagare perché se non producono soldi sono veramente degli stipendifici sono delle delle cose che vanno bene a livello sociale perché mantengono i posti di lavoro ma non funziona prima o dopo scoppi e questo è un po' un po' la cultura dell'imprenditore che le PMI spesso e volentieri gli imprenditori guadagnano veramente poco ma veramente poco e questo non va bene non è ammissibile non è accettabile spesso guadagnano più i top manager o i top collaboratori rispetto all'imprenditore stesso esattamente guadagnano meno dei loro dipendenti meno dei loro dirigenti quindi e senti tu avrai ti sarà stato detto tantissime volte probabilmente oggi no però in passato posso immaginare di sì ti sarà stato detto tante volte sì però stacca un pochino però dedicate anche alla vita privata non esiste solo il lavoro e si vive per lavorare non si lavora per via bla 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 eccetera tu cosa rispondevi soprattutto da giovane a chi te lo diceva e come consiglieresti di approcciare ad un giovane che magari si impegna tanto studia eccetera e ci sono i suoi amici magari i suoi genitori che cercano invece magari anche per tutelarlo di fargli passare il messaggio che così non si goda la vita è una classica espressione da gruppo uno cioè invidia sociale cioè questa è proprio la classica espressione di uno che dice non voglio che tu emerga non voglio che tu diventi una persona libera finanziariamente non voglio che tu ti fai una posizione non voglio che tu arrivi più di me e questa è proprio l'invidia sociale è il più di me che poi fa scattare il più di me cioè quando uno dice cazzo ma questo sta scavallando questo cazzo guarda il capannone guarda che numeri sta facendo ti guardano i bilanci ti guardano questo quello poi trovano fuori il pelo nell'uovo come esci con una ragazza e dici figa ma c'è un neo qua è esattamente uguale è una metafora e la gente è sempre lì a guardarti con il canocchiale quindi devi metterli sotto i tacchi e basta non hai dato la risposta diretta mi immagino sia Fottiti praticamente meritato un modo più elegante un modo più elegante Mirko senti senti io di domande ne avrei veramente un sacco ne avrei veramente tante ma so che tu ci hai portato un regalo speciale che tra l'altro tra l'altro dicevo prima Riccardo io ho già l'avevo già preso però questo è per il podcast grazie mille di questo pensiero che ci hai portato questo splendido pensiero e questo è il vangelo dell'imprenditore il vangelo per restare in tema comincio a pregare anche io la mattina esatto io ti guardo ti mando le mie vibrazioni e magicamente il tuo EBITDA aumenta non vedo l'ora sono pronto li evita li evita dopo quanto tempo entro 90 giorni sono disfatto ribassato sicuramente ti chiedo un tuo bellissimo autografo grazie i numeri comandano eh sì eh sì dietro c'è la chiave dietro c'è la chiave perfetto quindi sappiamo quando quando è partito il percorso di preghiera di Mirko di preghiera adesso facciamo il benchmark esatto 22 marzo 2024 22 marzo 2025 vediamo 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 Mirko allora siamo arrivati al momento finale il momento che i nostri ospiti di genere temono ed è il momento sta entrando che è il momento della ruota del giudizio che cosa è questa ruota questa ruota non è nient'altro che l'espressione finale di questa puntata no tu ovviamente dovrai girarla fare un bel giro forte uscirà ovviamente uno degli spicchi e ci sono alcune cose diciamo che possono andare a tuo favore alcune cose che possono andare leggermente a tuo sfavore non so che le stai già leggendo lo so che non mi stai cagando io poi vedo sempre si mettono di spalle nessuno mi caga e tu guardi non posso far così sto scherzando sto scherzando allora fai così gira e vediamo gira e vediamo vai Mirko vai attenzione eccola là è la seconda volta di fila ma porca miseria è sempre così 50 euro questi che fanno i soldi li fanno in tutti i modi porca tra è vero li fanno in tutti i modi che mi hanno avuto l'altra volta Alfio Alfio perdona uguale uguale no no Alfio era come si chiama Carlo Alberto Micheli Carlo Alberto Micheli bravo no ma lo convertiamo in una preghiera ti serve ti serve in genere faccio così ho il portafoglio in tasca pronto o metto 50 euro qua oppure beneficenza no no lui ci stava 50 euro ma i 50 euro li devo dare io sono io che li devo dare Mirko o ti metto 50 euro qua o li converto in beneficenza ovviamente mettiamo poi lo screen della beneficenza che abbiamo fatto l'altra volta l'abbiamo fatta ad una fondazione per una amistrofia muscolare scegli tu alla mia se ti servono 50 euro alla mia onlus mariana che dal 2002 io non ho avuto bambini e quindi poi ho chiesto perché era successo questo ho avuto la risposta di questo e ho costituito questa onlus mariana che fa principalmente due cose educazione nel mondo a bambini che non sono nati da una famiglia che può farli studiare eccetera e dall'altra parte imprenditori in difficoltà onlus mariana fantastico mi mandi tanto il mio numero mi mandi il link super volentieri assolutamente lo facciamo immediatamente poi ovviamente in puntata lo mettiamo vi metto qua lo screenshot ragazzi grazie veramente a Mirko Gasparotto per questa puntata incredibile il valore l'ispirazione soprattutto che ci hai portato super Mirko l'esempio ancora costante che per fare l'imprenditore per ottenere risultati bisogna lavorare lavorare studiare non intelligenza artificiale dura settimana vaffanculo o stratagemmi di velocità signori Mirko Gasparotto grazie grazie ciao ragazzi ciao incredibile siamo giunti alla fine di un altro episodio un'altra storia straordinaria che ci ha insegnato davvero tanto guarda e ascolta le altre puntate che trovi qui e ricorda di iscriverti e di attivare la campanellina per continuare ad arricchire il tuo percorso di crescita sia professionale che personale io sono Valerio Girolami di 20 Business Training che è l'accademia appunto di riferimento in Italia nella formazione di vendita e business e ti stiamo parlando dalla nostra sede di Milano con uno spazio di più di 1200 metri quadri che è dedicato interamente alla formazione di alto livello dove ogni angolo è pensato per stimolare la creatività la condivisione e l'apprendimento questo era Alza di Fattura Podcast la genesi dell'opulenza e ti aspettiamo al prossimo episodio che il fatturato sia con te ciao